Questo è tutto l'animo, questo è tutto! Erano un centinaio gli attivisti italiani, francesi, belgi e svizzeri che hanno fatto irruzione nei locali del mattatoio di Via Traves a Torino e si sono incatenati lungo il corridoio in cui gli animali vengono spinti prima di essere uccisi. A darne notizia su Facebook, il gruppo 269 Liberation Animal Usiamo i nostri corpi come arma per bloccare il massacro degli animali e fare co-resistenza con loro, hanno dichiarato i manifestanti. Gli animali vogliono vivere, non essere uccisi in condizioni migliori. Non è una semplice azione militante, ma un forte gesto politico, un'operazione di disobbedienza civile. I manifestanti, 97 in tutto, sono stati denunciati dalla Digos per reati di invasione di terreni ed edifici e violenza privata oltre che resistenza a pubblico ufficiale.